Colpo grosso del Pontevomano che sbanca il neutro di Città Sant'Angelo e batte il Delfino Curri per scala 0-1 con la rete di Polisena nella seconda metà della ripresa. Riavvolgendo i nastri Delfino Curri con Pastorini e Di Giovacchino davanti, Pontevomano che risponde con il tridente Valentino Cernaz, Polisena e Toure. La partita non decolla mai all'occasione, le contiamo con il contagocce, i primi due tiri non nello specchio rispettivamente di Valentino Cernaz e Di Gobbo, entrambi al volo, entrambi fuori. Al diciannovesimo carambola sulla trequarti campo, favorisce Falco, destro di prima intenzione, Gava si rivolge in corner, poi è la volta di massa che rientra sul destro ma non riesce ad impensierire l'estremo ospite. Con le immagini di Simone Luciani passiamo alla ripresa del settimo, ancora Valentino Cernaz da fuori aria, l'esito è lo stesso fuori. Al quarto d'ora calcio da fermo per i pescaresi, Lupo si sparca a centro aria ma non riesce ad impattare ottimamente con la testa, con Gava che la fa sua dopo una serie di rimpalli. Alla mezz'ora il colpo di testa di Polisena non trova la porta mentre tre minuti più tardi lo stesso numero 7 alla prima vera occasione del match si crea spazio in aria e in girata con il destro, batte calore per lo 0-1 definitivo. Il Delfino cerca di spingere per trovare la via del pareggio, Bonati getta nella mischia di Stefano e Sciamanda ma il risultato non cambia. L'occasionissima per chiudere sui piedi di Valentino Cernaz che fa tutto bene in ripartenza ma tu per tu con calore spara alle stelle. Termina dunque così tre punti d'oro per il Ponte Romano che aggancia i pescaresi a quota 26, ottima prestazione invece in casa il Delfino Curi seppur infruttuosa. Il Delfino Curi-Pescara, Ponte Romano 0-1. Sicuramente è una partita fondamentale per il nostro percorso, sapevo che giocavamo contro una squadra organizzatissima, una squadra che difende con 11 giocatori dietro la linea della palla. Non era facile, ho detto ai ragazzi di non sbagliare in uscita perché è quello che volevano loro, volevano che noi perdessimo palla in uscita per ripartire e quando ripartono questa squadra l'ho vista fa male perché non è una squadra che difende per caso ma è una propria scelta dell'allenatore e quindi siamo stati bravi nel avere pazienza, nell'aspettare l'occasione giusta e credo che soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosina in più e la vittoria credo sia meritata. Sicuramente il merito fondamentale di questa squadra, oltre al fatto che comunque abbiamo cambiato e aggiustato qualcosa, è quello di non aver mai mollato perché sfido chiunque dopo sette partite e zero punti a non avere un minimo di sfiducia. Però io ho cercato sempre di incudere fiducia, ho detto che le prestazioni bene o male le facevamo e non raccoglievamo per quanto creato e devo ringraziare anche il mio staff, il preparatore dei portieri, il preparatore atletico, il mio secondo, il fisioterapista che sono gente che lavora nell'ombra e che ci aiuta tanto però alla fine stiamo raccogliendo i risultati, bisogna continuare. Sì, secondo me è stata una bella partita, molto tattica, tra due squadre che hanno fatto valere l'organizzazione seppur con concetti diversi. Secondo me il Ponte Romano si è ripreso giustamente quello che noi all'andata magari abbiamo avuto più fortuna di loro, per cui credo che sul risultato non ci sia nulla a dire anche perché è una squadra in forma, è una squadra forte, organizzata, ben allenata. Sapevamo della difficoltà della partita e l'abbiamo preparata anche bene secondo me e l'abbiamo fatta bene. I ragazzi sono stati bravi, hanno veramente fatto una prestazione importante, siamo mancati in alcune ripartenze però voglio dire è una sconfitta che ci può stare purtroppo per il valore dell'avversario nonostante una buona prestazione. Noi lunedì scorso quando ci approcciavamo a questa partita comunque ci siamo detti che a prescindere dal risultato e da come sarebbe andata la partita il nostro campionato non sarebbe finito perché sapevamo del valore dell'avversario e questo quindi adesso ci deve animare fermo restando che forse per la partita che abbiamo fatto ci rimane un po' più di amare in bocca di quello che magari potevamo pensare perché l'abbiamo fatta bene e dobbiamo capitalizzare meglio alcune situazioni. Adesso dobbiamo andare avanti, le partite sono tutte difficili il campionato è di alto livello e noi dobbiamo lottare con tutte le nostre forze, con quello che abbiamo e non ci dobbiamo disunire nemmeno un attimo. Grazie.